Buonasera e benvenuti nell'era della pigrizia felice. Ho trovato così un articolo sull'Ansa oggi con questa definizione che mi piace molto di questo momento particolare in cui viviamo, in cui siamo costretti a stare a casa. Momento della pigrizia felice. Io purtroppo ho un vizio precedente che è quello di stare tante ore qui insomma al computer, no? Allora un po' si sfogliano delle pagine e mi è capitato di sfogliare questo articolo che ho trovato in rete sulla mia città, su Selvazzano Dentro. In questo articolo, di cui metterò il link poi alla fine di questo video, c'è una bella foto del nostro sindaco, adesso ex sindaco perché è diventato mi pare presidente della provincia, insomma ci mostra un'opera che il comune realizza o sta per realizzare. L'articolo è del 21 settembre 2018 e titola Selvazzano Dentro, la via al via alla ricostruzione della nuova piscina intitolata Bud Spencer, opera di quasi 17.000 metri quadri ed ha il costo complessivo di circa 10 milioni di euro. L'impianto natatorio sorgerà a Tencarola ed è stata definita dal sindaco Enoch Soranzo l'opera più importante nella storia della città di Selvazzano Dentro e poi la descrive non usa mezzi termini il sindaco Enoch Soranzo e ne ha ben donde, a pochi giorni dall'intitolazione a Bud Spencer partono i lavori per la costruzione della nuova piscina comunale, lavori che mi pare sono già in stato di avanzamento. Punto di svolta per Selvazzano Dentro. Il valore complessivo dell'opera che sorgerà in gale della Repubblica a Tencarola di Selvazzano Dentro è di circa 10 milioni di euro. Il sindaco è di poco entusiasta, un'impresa straordinaria che certamente rappresenta un punto di svolta nella città che ho il piacere di amministrare. L'impianto natatorio con la sua superficie di 16.765 metri quadrati, scusatemi se sono un po' pedante, ma insomma i particolari non sono senza importanza. È senza dubbio l'opera più importante nella storia della città di Selvazzano Dentro, un'opera che ha visto tutto il comparto tecnico impegnato per molti mesi per redigere il progetto. Sarà un impianto sportivo omologato comuni, un'eccellenza nel Veneto e nell'intero territorio nazionale vista la sua funzionalità e le diversificate destinazioni con quattro vasche interne e sei funzioni ed altre quattro esterne con quattro funzioni. Bene, prezioso, è tanto desiderato. Io per la verità proprio ne sentivo assolutamente la mancanza. Ma parlare solo di piscine comunali è davvero riduttivo. Sai, il piano terra ci sono le varie vasche, i servizi annessi, l'area reception, il bar, lo shop, la sala riunioni. Al primo piano sono previste l'area wellness, area relax, solari, midromassaggio, sale per massaggi, sauna e bagno turco, docce emozionali, l'area fitness e palestre, il centro per la fisioterapia e riabilitazione. Aggiunge Enos Oranzo. L'impianto natatorio darà risposta a tanti bisogni della comunità, diventando un luogo di incontro, di pratiche sportive, ma anche di salute e benessere. Un bene prezioso e tanto desiderato della cittadinanza di oggi, che sarà un patrimonio fondamentale per le generazioni che verranno. I nostri ragazzi potranno fare educazione motoria in acqua, gli adulti ai nonni. Avranno qui la possibilità di praticare acquagym e qualt'altro si possa organizzare nei vari spazi polifunzionali, compresa la riabilitazione e la fisioterapia. Le famiglie in estate godranno di tutta la parte esterna attrezzata per le giornate di relax in alternativa al mare e alla montagna, senza contare le numerose attività agonistiche che il complesso potrà ospitare, sia come partecipanti, sia come spettatori. Direi che davvero ce n'è per tutti i gusti. Il progetto per entrare nello specifico prevede di realizzare piano terra, aree interne, hold ingresso, reception, lobby, bar, shop, ludoteca, sale e riunioni, locali spogliatoi atleti con servizi docce, depositi scarpe ed armadietti, modo differenziato per adulti e bambini. Locali spogliatoi per istruttori, giudici con annessi servizi docce. Una vasca principale al coperto di dimensione 25x16,5, profondità 1,8 ad 8 corsie di larghezza 2, con annessi tribune per il pubblico per una capienza di 350 spettatori, dove si possono svolgere attività sportive agonistiche, nuoto agonistico a livello nazionale e gara in vasca corto, pallanuoto fino alla categoria C maschile e A2 femminile nuoto sincronizzato. Una vera vasca coperta? Beh, qui mi fermo perché poi lascio a voi, vi finisco solo con le migliorie, varianti architettoniche, miglioramento del clima acustico, degli ambienti dedicati all'attività sportiva, quali la zona di vasche V1, V2, V3, V4 e la palestra al piano primo, in modo da ottimizzare il tempo di riverbero in condizioni ambiente non occupato e renderlo inferiore a 1,5 secondi. Realizzazione dei parapetti interni con l'astro di vetro stratificato in sostituzione di quelli previsti in carperteria metallica, realizzazione di finiture e pavimenti inglesi con elementi di maggior prezzo e qualità architettonica, realizzazione di sistema controsoffitto e telo teso e retrovigliato con tecnologie LED vasche V2 e V3, realizzazione di parete vetrata nel locale palestra al primo piano in affacciato sulle zone vasche, modifiche migliorative dei prospetti est e oves con inserimento ampia pareti vetrate, applicazioni di pellicole antisolari lungo l'ampia facciata vetrata sud che guida l'area del solano esterno. Poi sono tutte le migliori, allora lascio a voi giudicare e poi finire di leggere l'articolo perché è denso di particolare su quello che ci aspetta. Purtroppo adesso è intervenuto quello che è intervenuto, allora uno si chiede cosa succederà di questi lavori quando poi nei prossimi tempi ci aspetta una situazione in cui forse avremo problemi magari ad acquistare il cibo per mangiare. che ne succederà di questi lavori? Saranno effettivamente indispensabili e io soprattutto mi chiedo se sono indispensabili qui perché qui insomma io abito in un luogo selvazzano quindi qui dove si fa la palestra che confina esattamente con Abano, Abano Terme che è una forse la più grande, non lo so ma non vorrei sbilanziarmi, è una delle più grandi stazioni termali d'Europa. Ad Abano ci sono qualcosa come 95 alberghi, non vorrei sbagliare se sbaglio sbaglio di 1 o 2, 95 alberghi che sono per lo più grandi alberghi, cioè alberghi che hanno che hanno una capienza media di 200-300 persone, qualcuno anche maggiore e ci sono circa 200 piscine, 200 piscine termali, sia all'aperto anche grandi piscine, alberghi hanno piscine anche diciamo delle dimensioni di quelle olimpioniche, sono piscine termali più o meno con l'acqua più o meno fredda e sono piscine diciamo all'aperto e allo scoperto quindi calde e anche meno calde e poi hanno tutto, cioè sono alberghi che hanno tutti i servizi dalle saune al fitness insomma è tutto quello che serve. Ci vengono, no adesso non ci vengono in questo momento, ma insomma ci venivano soprattutto i tedeschi insomma, ma molti di questi alberghi già cominciano, già sono in crisi, si trovano alberghi che sono in una situazione più o meno fallimentare, alcuni chiusi, alcuni mandati avanti dal personale in attesa di un nuovo acquirente. Sono situazioni che risentono un po' della crisi, anche della crisi del così legata al fatto che meno tedeschi stanno arrivando da qualche anno a questa parte. Ci sono come dicevo qualcosa come 200 piscine termali con acqua più o meno calda insomma, dove si fa il fitness eccetera e molti di questi alberghi diciamo fanno entrare, danno l'uso delle piscine agli esterni, quindi gli esterni possono usufruire molti di quelli che abitano dove abito io insomma vanno a nuotare nelle piscine di questi alberghi, insomma si paga un ingresso che va dagli 8 euro diciamo ad abbonamento per 10 entrate fino a 20-25 euro alla volta, dipende dall'albergo da dove si va, ma insomma questi sono i prezzi per entrare perché ovviamente la piscina e la manutenzione di queste cose ha un costo insomma, ma abbiamo a disposizione qualcosa come 200 piscine termali a 2 km da casa. Queste piscine poi sono spesso quando sono all'esterno sono inserite in diciamo in ambienti verdi dove si sta bene, ci si straia, si prende il sole, insomma sono alberghi molto confortevoli e in più ci sono anche altre strutture insomma qui a 2 km da Paltana a Padova c'è un altro impianto con piscine. allora il problema è, io mi chiedo insomma, mi chiedo a cosa serve, perché si devono spendere 10 milioni di euro nel progetto, poi chissà quanti saranno in pratica e una volta che si saranno spesi questi 10 milioni di euro per una struttura di questo tipo che consuma suolo, ma non solo consuma suolo, insomma. Poi sicuramente sette piscine coperte, scoperte e tutto questo ambaradan richiederà sicuramente dei costi di manutenzione. A me risulta che la manutenzione di una piscina, scaldare l'acqua, pulirla, filtrarla, mettere, insomma tutto quello che ci va dietro ha un costo, ha un costo sostanzioso per chi gestisce l'impianto e quindi sicuramente noi cittadini non potremo entrare o usare queste piscine gratuitamente e nemmeno con un prezzo che sia probabilmente concorrenziale con quello degli alberghi, oppure sarà concorrenziale ma insomma sarà più o meno equivalente a quello degli alberghi, non si potrà entrare con meno di 10 euro a entrata, dico così, ma forse saranno anche di più. Allora mi chiedo, non era più semplice per il comune se voleva fare qualcosa per noi cittadini, anche noi vecchietti insomma, trovare un modo di convenzionarci con questi alberghi di Abano in modo tale che anche le entrate fossero diciamo anche più abbordabili insomma, diciamo che l'entrata media costa intorno ai 15 euro, fossero per noi più abbordabili e quindi darsi la possibilità ai residenti nelle zone limitrofe di usare di più le piscine e di avere un minor costo e per gli alberghi insomma di avere una maggiore affluenza da parte degli esterni in modo tale da starci più dentro con le spese. No, io avrei fatto così ma sono una persona molto ingenua, non so niente di politica insomma, ma mi chiedo insomma perché fare dei monumenti in quest'epoca, qual è la fantasia che ci muove, no? Cosa vogliamo? E la visione insomma, no? La consapevolezza dei tempi che stiamo vivendo. Adesso c'è arrivata questa tegola addosso, no? Per cui anche tutta la zona termale di Abano è assolutamente in crisi, no? Gli alberghi sono chiusi, le piscine sono inaccessibili, ci lavorano centinaia, migliaia forse, no? Di persone, spesso con contratti molto così. Quindi queste strutture sono in crisi e la nostra piscina, bellissima, mega galattica, è, diciamo, a metà. Andrà finita? Verrà gestita? Di questi tempi? Non lo so. Ma allora ritorno, e da questo punto di vista la mia fantasia galoppa a un'altra opera che è stata costruita qui, mega galattica, ed è una struttura che si chiama Seminario. Negli anni settanta, diciamo, fine anni sessanta, ma negli anni settanta poi si è cominciato a costruire una struttura enorme, che era un seminario vescovile, insomma, no? Ed è stato costruito con cosa? Con i soldi che si sono raccolti dai cittadini, insomma, dai fedeli, dai credenti, con altre cose. Ma insomma, è una struttura enorme. Vi metterò qui sotto il link anche in modo tale che possiate vedere cos'è questa struttura. È andata avanti, ha funzionato forse una ventina d'anni. Poi la situazione è cambiata, sono mancate le vocazioni, ci sono stati dei fenomeni per cui questa struttura è stata completamente abbandonata. e da oltre vent'anni questa struttura è allo sfascio. È una situazione, è una cosa enorme, non sto parlando di poco. È allo sfascio e costituisce un problema sia per la curia, che non sa mandarla avanti, sia perché è diventato un luogo di raccolta anche di... È una zona poco per bene, che ha bisogno di vigilanza, che è stata in parte chiusa, ma poi la gente la sfonda per entrarsi, deve essere sorvegliata, deve essere vigilata. Ci sono dei costi anche per la vigilanza e per la sorveglianza. Leggo tanto perché il seminario di Tincarola nacque alla fine degli anni Sessanta, grazie alla generosità dei parrocchiani della Diocesi. La curia Vescovile, attraverso l'ente seminario, ne acquistò l'ampio terreno in prossimità del ponte e vi realizzò, attorno agli anni Settanta, il nuovo seminario minore. Negli anni Duemila, a causa del forte calo di vocazioni, la curia fu costretta a decidere per la chiusura. Ad oggi, purtroppo, l'imponente edificio perdura in uno stato di totale incuria e abbandono. Sta di fatto che non si sa cosa farne di questo seminario. Ci sono state tante proposte. Quella che è stata la proposta vincente è stata quella di una fantomatica, non tanto fantomatica come vedremo, ma di una fantomatica società. Una società che si chiama Società Trifoglio. ha fatto un progetto, insomma, ha dato il compito a un architetto, mi pare, di Milano di fare un grande progetto per quest'opera, per recuperare quest'area, questa superficie. Si sono raccolte, insomma, in qualche modo molte idee all'inizio per cercare di vedere cosa fare, ma la sostanza è stata quella che si è affidato a questa società il compito di fare un progetto sostanzialmente di recupero dell'area, quindi di demolizione del seminario, di questa enorme struttura, di utilizzo di un'enorme superficie per fare, ovviamente, quello che è stato fatto in molte altre zone d'Italia, insomma, di queste riqualificazioni urbanistiche, insomma, per fare un'altra città nella città, insomma, diciamo qualcosa che preveda duemila abitanti, oltre a un grosso centro commerciale, un grosso impianto palazzetto dello sport da cinquemila persone e così via. Il progetto della società Trifoglio prevede, come molti sapranno, l'ennesimo megacentro commerciale, seppur mascherato da una polifunzionalità dovuta per lo più alla decantata costruzione di un auditorium ammesso. Un progetto faraonico nel consistente consumo di suolo e malinnestato nel tessuto vario complessivo dell'epoca. Viene stipulato un protocollo di intesa. Notiamo bene, è stata fatta questa costruzione megagalattica, a questo seminario, con una visione anche qui, no? Di gran breve periodo, perché è stato, diciamo, costruito all'inizio degli anni settanta e vent'anni dopo era già inutilizzato, in sfacelo. Quindi un investimento di soldi di cittadini buttato al vento, no? E' rimasto quasi come un peso alla curia. Allora cosa fa a questo punto? Il comune di Selvaziano, e la società Trifoglio stipulano un protocollo di intesa sul progetto di riqualificazione del seminario. E quindi questo è il primo passo, leggo, tangibile verso la riconversione dell'intera area, che precede di fatto l'accordo di programma dal quale verrà delineato il progetto definitivo. Allora, intorno agli anni 2010-2011 si apre ufficialmente il dibattito sul nuovo progetto di riqualificazione del seminario minore di Tencarola. E quindi un progetto che vede tra le opere più importanti da realizzare un forum hall, una struttura multifunzionale in grado di ospitare da 3.000 a 5.000 persone nella quale troveranno spazi eventi sportivi, meeting e convention che potrebbero interessare un vecino termale. Per la sua realizzazione è stato reso noto che è già pronta una convenzione che prevede 11 milioni di euro di investimento. L'architetto ha sottolineato che si tratterà di un complesso destinato a creare servizi per il territorio. In relazione alla sua posizione strategica potrà diventare un punto di riferimento per attività di grande rilevanza. Siamo intorno a 2010-2011. La costruzione ex novo di una nuova città nella città che prevede tre grattacieli da 15 piani, questa forum hall da 5.000, un mega centro commerciale e poi tutta una serie di scuole e tutta una serie di costruzioni ad uso abitativo. Tutte queste costruzioni che poi vengono fatte nelle zone di recupero in cui ci sono questi investimenti edilizi, risparmio energetico, queste cose che poi costano carissime sul mercato. I terreni su cui sorge la struttura hanno mantenuto le caratteristiche di aria destinate a scopi sociali, cioè al servizio della collettività, così come previsto dal piano regolatore. Ben presto però il basso valore di tali terreni, dovuti alla loro non edificabilità a fine residenziali, ha suscitato l'interesse della speculazione esilizia che ha visto nell'acquisto a basso prezzo e nella trasformazione in area di edilizia residenziale una occasione irrepetibile per creare plus valore e quindi profitto. Ed è in quel periodo infatti che la società Trifoglio S.P.A., una società immobiliare specializzata in speculazioni edilizie, acquista una grande area adiacente al seminario per farne un'unica lottizzazione comprendente il centro commerciale, un centro direzionale e numerose abitazioni. E questo dopo aver ottenuto dall'ente seminario una prelazione per l'acquisto dei terreni dell'ex seminario e inizia le trattative con il comune di Selvazzano per ottenere necessarie varianti del piano regolatore. Insomma, si tratta anche di trasformare la destinazione d'uso di una gran parte di questo territorio. Già poca visione, no? Perché si fa questa struttura enorme, si costruisce questa struttura enorme che sta in vita vent'anni. E poi si lascia diventare faticente. Chi c'è entrato ha portato via tutto, insomma, dai lavandini alle cose, insomma, è diventata un eco-mostro. A questo punto interviene una società, società Trifoglio S.P.A., che diventa titolare dei diritti reali, cioè prelazione di acquisto, su circa 360.000 metri quadri di terreno che comprendono l'area dell'ex seminario. E qui c'è un cambio di destinazione d'uso, richiesto dal lottizzante, che prevede 75.000 metri quadri di residenziale, 25.000 di direzionale e 33.000 di commerciale, per un totale di 133.000 metri quadri. E ad un uso intensivo l'interesse prettamente privato. Beh, queste sono cose tecniche. Chi è questa società Trifoglio che prende in mano tutta questa cosa e fa un immenso progetto, insomma, diciamo che prevede queste strutture enormi e poi una edificabilità che porterebbe in questa area circa 2.000 abitanti, io vado a vedere e non riesco a trovare chi sia. E pongo anche il problema, insomma, lo pongo da qui, insomma, dalla rete. Chi è questa società Trifoglio? Come è composta? Dove ha sede? Cosa fa? Se ne occupa un giornalista. Si scrive, un amico del profilo Facebook aveva chiesto informazioni sulla Trifoglio SPA che ha presentato la proposta preliminare di riqualificazione dell'ex seminario. Le uniche informazioni che aveva reperito in internet erano quelle dell'omonima Trifoglio SPA impegnata nel commercio di carni. Ma allora chi è l'acquirente dell'ex seminario? Quindi parliamo di un'opera pensata male, senza capacità di visione verso il futuro, di dove sta andando la società, dove stanno andando le esigenze, di dove stanno andando anche dove stanno andando le vocazioni, insomma, la chiede di quali sono i tempi vent'anni prima e che vent'anni dopo non ha più senso e viene completamente abbandonata. E quindi scarsa visione. Dopodiché quello che resta, le macerie di quest'opera, diventano preda di altri interessi. E chi è questo Trifoglio? Si tratta di un gruppo immobiliare costituito nel 1980 a Vicenza e trasferitosi a Padova nel 1991. Sette anni fa ha attuato un progetto di fusione mediante incorporazione con la Cascina Torre SPA di Bergamo. Al momento la sede della Trifoglio è ubicata in galleria Trieste a Padova, ma a fine marzo si sposterà in via Belzoni. Lì non c'è nessun campanello o una targhetta, insomma, che dica il luogo fisico della società. Dotata di un capitale sociale pari a 4 milioni di euro, vanta tra i suoi principali titolari, quasi tutti di origine orobica, orobica vuol dire bergamasca, per chi non lo sa, pure Gabriele Cimadoro, parlamentare dell'Italia dei Valori, allora, e cognato dell'onorevole Antonio Di Pietro. Cimadoro, nominato presidente del Consiglio d'amministrazione nel 2010, detiene circa il 20% delle quote azionarie. Il ruolo di amministratore delegato spetta invece all'immobiliarista bergamasco Ferruccio Locatelli, il quale Ferruccio Locatelli è tutt'altro che l'unico, che l'ultimo venuto in questo settore, perché è fondatore della Leonardo SPA e della Dedalo Energy SPA, una ESCO Energy Service Company specializzata nella produzione di fonti rinnovabili. Inoltre, Locatelli è responsabile della ESCO Bergamo SRL, che realizza soluzioni per il recupero dell'efficienza energetica su vasta scala. Consigliere della Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausidiatrice di Bergamo e dell'azienda Multiservizi Ingenio Ambientale di Torino, AMIAT. Altri membri della Trifoglio sono Bortolo Roncallius, ma gli altri si interessano meno. Cominciamo a vedere cosa si muove intorno a questa cosa. Si muove la finanza e si muove la politica, no? Simadoro, cognato e per l'occasione presidente del consiglio di amministrazione di questa società Trifoglio, che quando uno va a vedere in internet, eccetera, non trova che esiste. E non sa cosa sia, insomma, no? Tra l'altro si stipulano questi accordi, queste cose, una società che almeno dal punto di vista ufficiale così è poco chiara. E quindi si muove la politica e la finanza. È interessante fare delle ricerche poi dove compare questo ferruccio Locatelli, il quale dichiara, insomma, è tra i maggiori contribuenti italiani, insomma, con un miliardo e qualcosa di reddito annuo. Notizia che avevo letto in un giornale bergamasco a quei tempi. Si parla di una cina di anni. E quei tempi erano i tempi berlusconiani. Sta di fatto che nel frattempo, tra una cosa e l'altra, di questo progetto, presentato nel 2012, non è stato realizzato niente. Non sono state fatte le demolizioni previste, perché era previsto buttare giù tutto quello che era stato costruito, per poi fare tutta questa cosa molto nuova e, diciamo, modernissima. No, ma non è stato fatto niente. È tutto fermo. In realtà io non so poi cosa sia successo, ma l'unica cosa che penso sia successa di importante è stato che la politica che si muoveva dietro questa società, che si sposta l'attenzione nel bergamasco, la politica è cambiata. Insomma, Berlusconi ha fatto il suo tempo, insomma, no. E probabilmente gli spazi politici che allora c'erano dietro, politici e finanziari che allora c'erano dietro, sono cambiati, insomma. Qualcosa è cambiato da questo punto di vista, però non so cosa. Ma il discorso era di capire come andiamo avanti, come procediamo, come si fanno le cose e come poi, quando i tempi cambiano, con cosa dobbiamo fare i conti? Quindi quanto siamo inavveduti nello spendere denaro, secondo me. Quando si vanno a vedere poi le connessioni finanziari e poi, diciamo, tutto si connette, no? Cioè si scopre per esempio che Ferrucciolo Catelli al 4% aveva, parlo in quegli anni perché poi non mi sono più occupato della fazenda, ma aveva in quegli anni il 4% nell'Azunino Rissanamento, che poi interveniva nei lavori dell'Expo di Milano, poi nell'Accatello SRG, poi è collegato all'Istituto Attesino di Rissanamento, Poi attraverso la Leonardo S.P.A., in un altro luogo interessante in questo momento, ad Alzano, un'operazione su quella che era la vecchia cartiera Pigna. E lì c'è un'altra operazione molto grande di riconversione, di acquisto prima e poi di riconversione di tutta quella zona, quell'area industriale. Uno dei centri importanti della finanza è l'ISA di Trento, che è l'Istituto Attesino di Sviluppo, che è una società finanziaria partecipata dall'Arcidiocesi di Trento e da altri enti ecclesiastici. A questo Istituto Attesino di Sviluppo è anche, in qualche modo, collegata la Diocesi di Bergamo. E infatti anche la Curia Bergamasca è ricca di immobili e il suo valore assommava 3 miliardi di euro, ma è una cifra teorica, perché assomma il valore di 1600 chiese, 250 oratori, asile, case di riposo, terrenne ed imprese commerciali. Ed inoltre ha partecipazioni azionari in Banco Popolare BPM, UbiBanca, Banca Intesa e l'UbiBanca è direttamente collegata all'ISA di Trento, cioè all'Istituto Attesino di Sviluppo di Trento. L'Istituto Attesino di Sviluppo di Trento poi è partecipato anche da Ferruzzo Locatelli ed è collegato alla Calisio SPA, alla Catella Reale State, alla Finanziaria dell'Arcidiocesi di Trento, alla Mittel, all'UbiBanca, con collegamenti con società di investimento, con altri istituti che maneggiano finanze e che fanno investimenti di tipo immobiliare e speculazioni immobiliari, ovviamente. Se voi andate a vedere, insomma, il Ferruzzo Locatelli lo trovate a vario titolo, insomma, o come consigliere di amministrazione o come presidente del consiglio di amministrazione, insomma, a vario titolo, come compartecipante finanziariamente a molte, molte società, quindi con molte attività, in luoghi diversi, da Torino, Amiat, ripeto, alla Castello SRG e lo trovate anche a Curno e lo trovate ad Alzano. Perché dico questo? Perché ho sentito, insomma, in questo periodo, ma qui non è possibile fare nessuna connessione, per carità, insomma, no? Però, insomma, c'è un filo, queste cose le avevo seguite otto anni fa, perché adesso poi è rimasto tutto fermo e quindi si è perso l'interesse, insomma, tutto questo che era questo mega progetto, insomma, no? Che doveva cambiare la fisionomia di questo paese, di questa cittadina alla periferia di Padova, insomma, no? Si è bloccato, insomma, io non so perché, insomma, ma quello che posso constatare è semplicemente che si è bloccato, quindi siamo con questa cosa che poteva essere anche una risorsa per i cittadini, insomma, no? Che invece è rimasta così. Vi mostrerò, vi linkerò un filmato per chi abbia voglia, sotto questo video, di andarsi a vedere cosa, cos'è, insomma, questo mostro. E tutto si è fermato, però, insomma, è strano, no? Che c'è un filo che lega questo progetto, questa situazione che è arrivata qui, non si sa come, non si sa dove, questa società creata ad hoc, perché evidentemente era stata vista qui la possibilità di una grossa speculazione, o di una grossa operazione edilizia, è arrivata qui, ed è arrivata qui dal Bergamasco. Questo territorio, il Bergamasco, ha collegamenti con interessi, diciamo così, della Curia, con gli interessi della Curia poi sono anche, si esprimono anche attraverso l'ISA di Trento, che vedo adesso che è diventata anche, comunque, che è in collegamento anche col Vaticano, insomma, cura anche degli interessi del Vaticano, cioè Giorgio Franceschi. Quindi, l'ISA a Roma sarà consulente delle finanze del Vaticano, vedo. E quest'ISA praticamente ha una rete, insomma, ha rapporti con le più importanti società di investimento, quindi fondi di investimento che vengono gestiti attraverso speculazioni immobiliari, dalla Real Estate al Catello e così via, per arrivare a Zunino. I territori che sono stati adesso, insomma, più al centro dell'epidemia, chissà perché, ma non proprio non me lo so spiegare, insomma, è semplicemente una coincidenza. Ma avete le fatalità, insomma, no? Le coincidenze sono state nella storia, insomma, no? C'è un filo diretto tra i luoghi che sono adesso più interessati dall'epidemia del virus e probabilmente anche più ricchi, perché erano quelli che più sapevano fare delle speculazioni, insomma, avevano dei leader, diciamo così, dei finanzieri, dei manager, dei politici, UbiBanca, insomma, sta di fatto che questi territori, che i più ricchi, insomma, d'Italia, sono anche quelli più interessati, Curno, Alzano, Bergamo, Brescia, anche a Brescia, sono state fatte speculazioni da questo punto di vista, no? Sono quelli più interessati dal virus, non so, è come quando mi vengono a dire che il virus colpisce gli anziani, insomma, no? Quindi continuo ad insistere che gli anziani hanno pluripatologia, insomma, no? Per cui sono più deboli, visto che hanno già un organismo indebolito, il virus arriva lì, insomma, no? E quindi quelli muoiono, periscono. Ogni volta che mi viene detto questo io ho un'obiezione, insomma, da fare, no? Perché prendiamo un grosso fumatore, no? Prendiamo un grosso fumatore, per esempio, come sono i polmoni di un grosso fumatore? Sono molto meglio di un anziano iperteso? Uno che fuma due pacchetti di sigarette al giorno, per esempio, ha un sistema respiratorio molto... e magari questo fumatore ha 40 anni, allora il virus prende proprio l'anziano, perché magari è un po' cardiopatico, perché magari ha la pressione un po' alta, prende il vecchio, e invece risparmia il fumatore perché è più giovane, ma anche se ha dei polmoni che non sono messi bene, non so se avete visto come sono, anche dal punto di vista anatomopatologico, i polmoni di un grosso fumatore, no? Bene, insomma, sta di fatto che sarà un'anemesi storica, non lo so, qualcosa ci deve essere, perché effettivamente questa zona dove nascevano, no? Gruppo orobico, dove nascevano questi... e dove avevano le loro sedi soprattutto, no? Questi grossi speculatori, insomma, no? Che facevano grossi piani, cioè che erano piani di risanamento, insomma, no? Prendevano un'area industriale dismessa, l'occasione era ghiotta, no? Perché l'Italia è stata deindustrializzata, no? E quindi dove c'erano queste grosse aree industriali? Era necessario fare una bonifica del terreno, acquisire questi terreni bonificati, diciamo, rimuovere tutto quello che c'era da rimuovere di costruito in precedenza e poi c'era il terreno vergine per fare una grossa speculazione, soprattutto all'interno dei centri urbani, perché queste cose nascevano all'interno dei centri urbani, così come in qualche modo è stato fatto anche con le aree occupate prima dagli ospedali. Bassano del Grappa, per esempio, aveva il suo ospedale in centro a Bassano del Grappa, no? Ci si andava a piedi in ospedale, no? Poi, man mano che si sono fatti i progetti che poi adesso si fanno con la finanza di progetto, no? Leggevo, leggevo, posso sbagliare, ma insomma qualcosa come 170 milioni di euro che sono stati chiesti in prestito per costruire all'ospedale di Mestre verranno restituiti nel corso di vent'anni e se ne renderà più di un miliardo. Mentre l'ospedale anche prima era a Mestre, era in centro della città, poi è stato rimosso. Belluno è la stessa cosa, c'era un ospedale, c'era una parte dell'ospedale che era in centro della città e che aveva anche un'edilizia interessante, perché era un'edilizia anche storica, insomma, anche Bassano, insomma, no? C'era un chiostro, c'erano delle costruzioni, è stato dato al suolo per farne parcheggio, no? Perché l'amministrazione ha pensato bene che magari era più utile farne un parcheggio. E adesso si sentono un po' anche di movimenti cittadini che sono stati in qualche modo spropriati di un loro vecchio ospedale, perché poi gli ospedali sono diventati dei monumenti, stanno diventando sempre più, no? Dei luoghi fatti in finanza progetto fuori dai centri abitati, quindi non si può più andarsi a piedi, insomma, in qualche modo, no? Bisogna anche pagare il parcheggio quando si va in ospedale, no? A Mestre, pare che bisogna pagare il parcheggio. Gli stessi operatori sanitari devono pagarsi il parcheggio, insomma, o trovare, non so, delle forme di abbonamento, da quel che ho sentito. E' successo questo, insomma, no? Sono abbandonate le vecchie strutture ospedaliere che non funzionano, ma non sono state poi riutilizzate, no? Avendo questo spazio, questi edifici anche di un certo prezzo all'interno della città. Sono stati spianati in due luoghi a cui sto pensando, sono stati fatti parcheggi, insomma, al posto di quello che c'era prima, insomma, no? E ripeto, i cittadini invece adesso che c'era esigenza, adesso che si scopre che, insomma, queste cose in realtà non bastano neanche, vorrebbero poter riutilizzare queste strutture che sono state abbandonate. Qui c'è un problema anche di scarsa visione e poi c'è un problema ovviamente di interessi che queste società sanno catturare, sanno individuare nel momento giusto e cercano di fare le loro speculazioni immobiliari. Però le speculazioni immobiliari risentono anche dai tempi, no? Queste città, nelle città, insomma, che sorgono ex novo, vengono vendute a caro prezzo, insomma, gli appartamenti costano molto. Allora non so poi, stante i tempi, quanto poi si sono riusciti a vendere di questa cosa qua. I centri commerciali ormai ci hanno riempiti di centri commerciali. Adesso pensare che qui su una cittadina di 20.000 abitanti abbiamo già qualcosa come, non so, ma almeno sei, per essere poco, centri commerciali, pensare di farne ancora un altro enorme, trovo che sia, che non sia un'idea. Poi se ne vuole fare un altro enorme anche a poca distanza da qui, ma poi ne abbiamo altri di enormi, basta andare nei confini, insomma, no? Quindi siamo pieni di centri commerciali, insomma, no? Il problema è che invece il rischio che abbiamo è che noi non avremo i generi alimentari prima di tutto, insomma, no? Allora questa scarsa visione, insomma, no? Che c'è? Questo pensare che le cose girino sempre in un certo modo, che non ci sia un limite che non è valicabile, insomma, no? E adesso ho già pensato qualcosa, ma voglio dire, io lo prendo come un avvertimento questa cosa qua, un avvertimento, ma magari ne parliamo un'altra volta, lo prendo come un avvertimento, qualcosa che viene prima di una possibile catastrofe, insomma, che ci avvisi, qualcosa che ci avvisa che non possiamo continuare così, insomma, no? Che non è questo il modo. E se adesso pensano di riprendersi, no? E di ritornare a fare come se niente fosse successo e a ripartire con un tipo di sviluppo della finanza come era prima, quindi con un tipo di, come dire, di turismo di massa come era prima, con un tipo di consumi come era prima, stante il fatto che sarà difficile dal punto di vista, almeno per un po' di tempo, farlo obiettivamente, ma l'idea di riprendere tutto con lo stesso concetto di sviluppo che c'era prima, insomma, no? Con lo stesso concetto di progresso, penso che sarebbe un fallimento, insomma. Molto dovrà cambiare e molto dovremo anche rivedere le nostre esigenze secondo il possibile, no? Secondo il criterio del prendiamoci tutto, insomma, godiamoci tutto quel che vogliamo, insomma, no? E non lo so. È una cosa molto, una coincidenza molto casuale, però, insomma, quando ho visto quell'articolo, quando ho pensato al seminario e ho pensato a questa storia che avevo cercato di studiare per capire, insomma, cosa si voleva fare, anche lì, questo mega progetto, secondo me è assurdo, insomma, non secondo me, ma anche secondo gli ambientalisti, secondo tante altre persone nel territorio, insomma, no? Tante altre figure nel territorio. Poi ho visto che si è fermato quello, ma credo che non si sia fermato per una questione di, per una questione ideale, si è fermato semplicemente perché probabilmente è cambiata la situazione politica, insomma, hanno capito che poi quelle cose non si vendono più. Vent'anni fa costruivano i palazzi qui dove io abito, li vendevano prima, no? Li vendevano sulla carta. Adesso, per lo più, restano in venduti, insomma, si è moltissimo in venduto, quindi le cose si sono fermate, per fortuna, si sono fermate anche qui vicino a me, dove il piano regolatore prevedeva che si andasse avanti con i palazzi, e invece ne hanno fatti due o tre e poi si sono fermati. E ritorniamo a queste piscine, insomma, no? Questa cosa che, secondo me, esprime una mania di grandezza ed esprime un voler essere quello che non siamo. E vedremo, insomma, temo che questi lavori più o meno si fermeranno o difficilmente riusciranno poi una volta terminati, se verranno terminati, riusciranno poi a dare il rendimento che ci si aspetta, quello che perlomeno li può mantenere vivi, insomma, no? Perché la gestione ha un costo. E così come tutte le opere di progetto di finanza, insomma, no? Le opere, le strade che si stanno facendo, la Piedemontana. Un saluto!